Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna code a tratti tra Calenzano e Barberino per il ripristino di un incidente e rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori rallentamenti tra Ponte della Est e Ponte della Ovest in direzione mare. Sulla A12 è chiuso fino al 27 ottobre per lavori lo svincolo di connessione della A11 provenendo da Lucca. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Bargino e tra Badesse e Monterigioni. Chiudiamo con i traghetti a causa delle avverse condizioni meteo. I collegamenti per l'isola del Ba stanno subendo cancellazioni e variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!